Mussolini! Ah, Mario Draghi! Sì, ti ho fatto chiamare io. Volevo soltanto complimentarti, sì 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 sì. Sono molto contento che sei arrivato. Eh, lo so, lo so, lo so. Bello, eh? Magistrale, non ho parole. E poi, voglio dire, la classe, lo stile, tutta un'altra cosa. Non come quello lì che assomiglia al commissario Montalbano, quel capitano dei bastoncini di pesce. E le procediamo con i vaccini, andiamo, spezzeremo le rene al covid! Non ci sono i vaccini, sono finiti. Poi boh, ma è un problema. Eh, allora cosa facciamo? Non ho capito. Non è colpa tua. Di chi è una colpa? Ursula. E chi è Ursula? Ah, è colpa sua. Va bene, adesso la chiamo, non ti preoccupare. Comunque, ascolta, ti volevo invitare per una grigliatona a casa mia il 28 aprile. A Predappio? Sì, poi magari andiamo a teatro, sempre che ce lo aprino, questo benedetto teatro. Che dite, lo aprite? Sì, lo aprite, come gli impianti di sci. Perfetto! Molto ottimista, allora. Sì, ci sarà Churchill. Oh, i soliti, sai, Churchill, c'è Adolf, sì, c'è Stalin, ecco, però mi raccomando, andiamo avanti con questi vaccini. Che figura mi fai fare di fronte a Churchill? Quella arriva e la prima cosa che mi dice è... Oh, hello, Benito, how's it going with the vaccination in Italy? Are you going all right? All right? Eh? Ho capito, hanno fatto la Brexit, possono fare quel che vogliono, ma dai, diamogli una lezione questi inglesi! E lo so, è un popolo bizzarro, ama la libertà, non come noi, certamente. Oh, ma mi raccomando, non tenermeli tutti in casa, eh? Non tenermeli tutti in casa fino al 28 aprile, che poi devo parlare con Stalin e lui mi dice, hai visto tu Benito? Italia essere tutta rossa, eh? Eh, non facciamo figure, mi raccomando. Grazie Mario, ti ringrazio, grazie Mario, ti ringrazio Mario, grazie, grazie, sì, 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 chiamami quando vuoi, eh? Grazie, ti ringrazio, grazie ancora, grazie, grazie, sì, laudato sia il tuo nome, va bene, grazie, ciao!